Amici di Motori Online, è il secondo giorno qui a Ginevra, io sono sempre Elena Giaveri e sono nello stand di Königsegg. Questa che vi presenterò è la sostituta della ghera RS, si tratta di un hypercar con prestazioni da brivido, 480 km orari di velocità massima. Si chiama Gesco, in onore del padre, infatti il padre ha sempre supportato le attività del figlio Christian von Königsegg in campo automobilistico, per questo ha voluto omaggiarlo con questa Gesco. Il motore è un V8 capace di sprigionare quasi 1600 CV, l'unicità però sta nel fatto che la potenza varia in base al combustibile utilizzato, visto che con il 95 ottani senza piombo la Gesco raggiunge i 1262 CV, mentre con l'E85 questo valore sale fino ai 1578, con una coppia massima di 1500 Nm. Oltre alle prestazioni in mozzafiato, anche l'estetica è davvero innovativa. La nuova linea è più affilata ed aggressiva e spicca soprattutto l'enorme alettone posteriore. Ogni dettaglio è studiato per offrire il massimo delle performance, ma oltre all'aerodinamica esterna, anche gli interni sono davvero notevoli, tecnologici e super all'avanguardia. Impreziositi da pelle e alcantara. Sarà prodotta in soli 125 esemplari, di cui pare che 72 siano già stati venduti, nonostante la prima volta che appare proprio qui a Ginevra. Il prezzo? Circa 3 milioni di euro. Grazie. Grazie.